Sono in aumento i contagi da Covid-19 anche nella nostra regione, un dato che registra una crescita del 97% negli ultimi sette giorni, ma parallelamente cresce anche il numero dei tamponi effettuati. La variante Delta, la più diffusa in questa fase, ha un'altissima contagiosità che può infettare il 20-25% dei vaccinati. Ma in questi ultimi mesi si stanno registrando anche casi di variante Delta Plus, una sotto variante della Delta più contagiosa del 10% rispetto a quella originale. Nel sequenziamento del virus continua l'intenso lavoro dell'Istituto Zooprofilattico Abruzzo Molise, che in stretta collaborazione con gli ospedali, lavoro essenziale per l'individuazione delle varianti circolanti. La situazione in Abruzzo è quella che era stata già descritta qualche mese fa con la variante Delta come variante predominante, variante Delta e i suoi principali sublineage. Quindi una situazione abbastanza stabile da questo punto di vista. Noi continuiamo a sequenziare i tamponi, certo non un numero così elevato di tamponi così come quello che facciamo qualche mese fa. Io non mi preoccupo della nuova variante, mi preoccupo del fatto che alcune persone tardano a vaccinarsi. Varianti nuove emergeranno sempre. Abbiamo visto che in Italia è stata introdotta la variante Lambda, la variante Mu, quindi probabilmente tra qualche mese ne nascerà un'altra, però tutte queste varianti fino ad ora sono comunque neutralizzate in vitro dalla immunità conferita dai vaccini, che significa che verosimilmente, ed è quello che sappiamo in condizioni reali, si dice che la vaccinazione protegge dalla malattia. In questo momento qual è la variante più aggressiva che avete studiato? In questo momento parlano sicuramente della variante Delta e la variante più diffusa. La variante Delta poi ha dato origine a sublineaggi caratterizzati da mutazioni specifiche, come per esempio la Delta Plus è caratterizzata da un'ulteriore mutazione nella proteina degli spike, che è quella proteina, ricordiamo, la proteina più esterna del virione, quella che interagisce con il recettore e che è il principale target della risposta anticorpale, quindi il principio qual è? Che se muta la proteina S, allora gli anticorpi che sono stati prodotti contro il vaccino che è stato fatto con il prototipo cinese, il virus iniziale diciamo, potrebbero non essere in grado di neutralizzare in maniera efficace le nuove varianti di nuova introduzione. Però questo è sicuramente possibile, ma in condizioni reali è molto improbabile che ci sia una totale perdita di neutralizzazione, quindi la parola d'ordine in questo caso deve essere tutti a fare il vaccino, quindi chi non ha fatto il vaccino deve fare il vaccino e soprattutto quando verremo chiamati dovremo fare la terza dose che diventa strumento fondamentale per dare una rinfrescata alla nostra immunità.